Buongiorno a tutti, sono Sara Ferrarese, siamo insieme, Muoversi Conoscendo. La nostra pratica oggi si svolgerà a terra, sul tappeto, ci distendiamo al pavimento, la schiena con le sue curve naturali, sento bene i punti di appoggio della mia colonna, la testa, le scapole e il bacino, i piedi e le braccia che premono a terra. Non chiudete il mento allo sterno, ma sollevatelo alto, come se ci fosse un terzo occhio sul collo che dovesse rimanere aperto a guardare il soffitto. Distendo la gamba, inizio a pedalare fuori l'aria, piede a martello, tallone cerca al pavimento, dentro l'aria, ginocchio al petto, senza cambiare i punti di contatto, gli appoggi della mia schiena al pavimento. Quindi pedalo, espiro, inspiro ginocchio al petto, espiro distendo la gamba, piede a martello, inspiro torno, espiro distendo dentro l'aria, fuori l'aria. Appoggio il piede a terra nello stesso punto in cui l'ho sollevato e tutto pedalata con l'altra gamba. Tenete la gamba con il ginocchio flesso, il piede al pavimento, bloccata a terra. Non iniziate ad ondolare oscillando, ma il piede forte e stabile, mantiene il ginocchio proiettato al soffitto. Ancora inspiro ginocchio al petto, espiro distendo la gamba, piede a martello. Ancora una volta, inspiro e espiro, torno. Ancora un esercizio al pavimento, sarà richiesta un'importante attivazione dell'addome e un po' di coordinazione. Quindi schiena a terra, sollevo una gamba, ginocchio flesso, l'altro braccio è disteso. Adesso, espirando, punta del piede e pollice cercano il pavimento, inspiro, torno. Fuori l'aria, punta del piede e pollice verso il pavimento, inspiro, torno. Fuori l'aria, il braccio sfira l'orecchio, il pollice si avvicina al pavimento. E espiro. La punta del piede anche si avvicina a terra come un pennino che si intinge nell'inchiostro. Mi fermo, ginocchia, mani scusate, al ginocchio, coscia al petto, tengo la posizione e se ce la faccio distendo l'altra gamba. E allungo, allungo, allungo. Quindi ogni volta che espiro provo a portare la coscia più verso la pancia, non tanto frontalmente ma apro leggermente al lato. Inspiro e espiro, spingo un po' di più. Cerco di mantenere la posizione, 20 secondi, poi torno a terra. E tutto con l'altra gamba. Quindi, inspiro, inizio a pedalare, scusate, con la gamba opposta. Fuori l'aria, piede a martello, tallone al pavimento, inspiro, ginocchio al petto. Le braccia rimangono lungo i fianchi, lo sguardo al soffitto, il collo aperto, il mio occhietto sul collo aperto al soffitto. Pedalo con movimenti morbidi, espiro distendo la gamba, inspiro ginocchio al petto, espiro distendo la gamba. Fletto quindi il ginocchio, mani su e tiro delicatamente la coscia verso la pancia. Posso distendere la gamba al pavimento. Inspiro e espiro. Dentro l'aria col naso, fuori l'aria con la bocca. Proseguiamo con una sfida per il nostro addome. Sempre dalla posizione di pancia a terra. Controllo la mia schiena, i miei appoggi al pavimento. Inizio a disegnare degli archi con le braccia. Quindi inspiro e fuori l'aria, i palmi si avvicinano a terra, sfiorano il pavimento. Quindi inspiro, dita al soffitto, fuori l'aria, palmi si avvicinano a terra. Ricordate di mantenere il collo bello lungo, il terzo occhio sul collo aperto, le gambe parallele, le ginocchia al soffitto. Inspiro e espiro. Quindi disegno degli archi con le mie braccia, dimenticando le gambe, male attivo, quindi non devono dondolare e facendo attenzione alla curva lombare. Chi vuole una sfida in più, chi se la sente, quando distendiamo le braccia, portando i palmi paralleli le dita al soffitto, può avvolgere la parte alta della colonna, abbracciando un mandarino sotto il mento e dolcemente riporta la colonna al pavimento quando i palmi sfiorano a terra. Quindi, espirando, avvolgo, inspirando, torno. È un po' come se volessi spalmare una fetta di burro, un ricciolo di burro sul pane, espiro, avvolgo e inspiro, torno. Una vertebra alla volta, i palmi sfiorano a terra, fuori l'aria, avvolgo, dentro l'aria, torno. Mi raccomando, cercate di, mentre affrontiamo questo movimento di flessione, di mantenere la mandibola morbida, di non contrarre i denti, ma tenere morbidi gli angoli della bocca. Bene, per oggi è tutto, vi ringrazio e sul portale chiespettacolo.info potrete ritrovare la lezione. Grazie e buona giornata. Grazie.